Buon di buona gente, sono Luigi in Artelusio e benvenuti a questa nuova recensione. Oggi, ragazzi, ritorniamo a parlare di una presenza che ormai sta diventando costante su questo mio canale. Ho avuto modo di parlare di buona parte di tutte le sue opere fino ad ora. Mi mancava giusto questa, assieme a un'altra, che devo vedere di recuperare. E Bando alle ciance, ragazzi, l'avrete visto anche già dal titolo. Oggi parliamo di un'altra opera, di quello che è diventato uno dei miei artisti preferiti, Michelangelo Rossato. E oggi vi porto uno dei volumi che più aspettavo di leggere, già l'avevo anticipato, ed ecco qua. Frida Kahlo nella sua casa azul, un volume illustrato che racconta la storia della famosissima pittrice Frida Kahlo. Prima di iniziare, però, ne approfitto per fare un po' di pubblicità, ragazzi. Il 30 marzo uscirà il nuovo libro di Michelangelo Rossato, La favola di amore e psiche. Io ho già prenotato la mia copia. Appena ho visto che è uscita la data, io subito sono corso alla Peltrinelli, dove ho fatto conoscere a tutti quanti, ai commessi e ai responsabili, Michelangelo Rossato. Ogni volta rimangono incantati loro, per primi li ho praticamente convertiti al buon gusto di quest'arte, quindi un bel trionfo come lettore e cliente affezionato da più di un ventennio della Peltrinelli. Per me è veramente una grande impresa, aver praticamente conquistato addirittura chi ci lavora. E sto ancora aspettando che qualcuno mi offra un lavoro alla Peltrinelli, ma va bene, dettagli. Bene, quindi il 30 marzo uscirà il nuovo volume, questa nuova opera di Michelangelo Rossato. Io come ho detto già ho prenotato la mia copia, non vedo l'ora che arrivi fine mese perché mi arrivi anche la mia copia e soprattutto ragazzi non vedo l'ora di leggerlo, di assaporare le immagini bellissime perché già le anteprime che ne ho viste, vabbè, seguendo Michelangelo su Instagram ho visto tutto il suo work in progress, le sue presentazioni e che devo dire ragazzi è sempre un lavoro di grande qualità. Poi è bello soprattutto perché seguendolo sui social comunque si vede anche come porta avanti il suo lavoro ed è proprio secondo me da un valore ulteriore a quello che è già di per sé un lavoro pregevole e di tutto rispetto. Quindi la favola di amore psiche 30 marzo 2022. Se volete anche voi prenotare la vostra la vostra copia per quando uscirà vi lascio il link Amazon qui in descrizione oltre che di questo volume su Frida Kahlo anche della favola di amore psiche. Bene, finito questo preambolo in cui ho fatto una pubblicità assurda ma scusate ragazzi ma mi sento in dovere di farlo soprattutto perché ho visto che molti, alcuni utenti che mi seguono comunque sono avvicinati alle opere di Michelangelo Rossato attraverso le mie recensioni quindi ho pensato fosse giusto comunque avvisarvi anche di questa nuova pubblicazione imminente. Bene, e iniziamo a parlare di questa nuova opera. Allora, questa qua era stata praticamente, questa Frida Kahlo nella sua Casa d'Azul era praticamente l'ultima opera che Michelangelo Rossato aveva terminato quando io l'ho conosciuto e ho iniziato a seguirlo. All'epoca in cui l'ho praticamente conosciuto la sua opera e ho iniziato a seguirlo su Instagram stava lavorando al suo volume su Il Cuore di Giovanna d'Arco e di recente stava ultimando la pubblicizzazione di Frida Kahlo nella sua Casa d'Azul. Quindi mi dispiace non aver potuto seguire bene il Work in Progress che sta dietro questo volume perché secondo me ragazzi deve essere stato un qualcosa di eccezionale. Già solo a vederlo questo volume, già solo a sfogliarlo, uno capisce, anche uno come me che non ci capisce, che è di arte, ci capisce il minimo possibile. Si capisce proprio il grande lavoro che c'è dietro. Allora, prima di tutto questo è un lavoro che è di collaborazione, infatti se le illustrazioni sono sempre di Michelangelo Rossato, i testi all'interno sono scritti da Chiara Lossani e sono tratti dalla biografia famosa, famosissima, vita di Frida Kahlo scritta dalla storica dell'arte Aiden Herrera, che è famosissima, la potete trovare facilmente alla Feltrinelli se volete recuperarlo. E attraverso, e si racconta, si ripercorre la breve ma intensa vita di Frida Kahlo e del contributo artistico che ha dato al mondo, attraverso gli occhi, posso dire occhi, o comunque lo sguardo, lo sguardo metafisico di un soggetto inaspettato. Infatti a narrare le vicende di Frida Kahlo non è la stessa Frida, non è un narratore anonimo esterno, ma è proprio la sua casa azul, ovvero la casa azzurra in cui lei visse la sua intera esistenza. Io ho avuto modo di vedere una ricostruzione degli interni della sua casa azul quando alcuni mesi fa ci fu la mostra a Napoli, dedicata appunto a Frida Kahlo, che era Il caos dentro, che oltre a una rappresentazione multimediale delle sue opere, inserti fotografici della vita di Frida Kahlo, oppure l'esposizione di busti decorati e dipinti e di costumi tipici del contesto territoriale in cui ha vissuto Frida Kahlo e che diventarono anche un po' il suo marchio di garanzia, i suoi abiti etnici tipici delle popolazioni indigene che lei valorizzò e che contribuirono a rendere lei stessa un'opera d'arte vivente. Bene, di conseguenza quindi subito dopo aver visto quella mostra ho detto no, mi sono ricordato che mi mancava questo volume di Michelangelo e ho detto no, devo recuperarlo. È l'occasione buona per farlo e devo dire ragazzi è stato veramente un altro viaggio, una full immersion incredibile in un mondo proprio veramente artistico. Se prima con le altre opere di Michelangelo Rossato mi sono emerso nel mondo delle fiabe per quanto riguarda Biancaneve e la Sirenetta o nell'universo storico della guerra dei cent'anni, della vicenda terrena di Giovanna d'Arco, qui proprio andiamo a toccare veramente l'essenza viva dell'arte e per rappresentarla Michelangelo si è messo veramente in gioco anche da un punto di vista artistico. Infatti, non voglio spoilerarvi troppo mostrandovi più del necessario, però qualche immagine scelta ve la voglio mostrare. Se alcune immagini sono chiaramente dipinte, rappresentate in maniera tradizionale, ad affiancarle ci sono immagini che sono letteralmente costruite in maniera quasi mi verbe da dire tridimensionale, ovvero utilizzando, accostando a immagini dipinte e disegnate da Michelangelo con ritagli veri e propri, come ad esempio o con veri e propri inserti, come in questa immagine, dove penso che non si riesca a vedere dalla vista alla bassa qualità del video, però vi posso assicurare ragazzi le foglie, queste qui, di questo ramo che vengono tenute in mano dalla giovanissima Frida, sono vere foglie e la camicia del suo abito sono ritagli di un foglio di carta appoggiato sopra e anche i segmenti in legno del cavalletto su cui sta dipingendo la giovane Frida sono ritagli di cartoncino sovrapposti sulla carta in una sorta di bellissimo mosaico artistico in cui si coniugano l'opera della matita, l'opera del carboncino assieme a soggetti di uso quotidiano come possono essere appunto pezzi di carta, fili di cotone o foglie addirittura e tante altre cose, persino spartiti musicali, giusto per dirvi, e fogli di carta velina per dare l'effetto e che danno un effetto proprio tridimensionale a ciò che guardi e veramente ragazzi è un, ti sembra quasi di vedere le immagini che escono fuori dalla pagina, è qualcosa di veramente incredibile, una trovata artistica splendida veramente, c'erano tanti modi per poter raccontare Frida Kahlo, primo fra tutti appunto rappresentarle in maniera artistica con le rappresentazioni, con i ritratti e i disegni, ma Michelangelo, Michelangelo Rossato ha deciso proprio di imprimere un'ulteriore forma d'arte proprio non solo visiva ma quasi tattile, ora non è che nel senso che questi, questo uso qua lo sentiamo sotto le dita ma è come se i nostri stessi occhi potessero quasi sentire, toccare questa tridimensionalità delle immagini ed è qualcosa di bellissimo veramente e si coniuga perfettamente con la simbologia proprio con che apre e chiude la narrazione ovvero il nostro ingresso, l'ingresso del lettore all'interno della casa azul, la casa azul che ci apre la porta del mondo, dell'universo di Frida Kahlo e della sua vita, quindi quasi un, proprio ci permette di immergerci come in una sorta di libro pop up all'interno di questo universo artistico e dove come appunto si coniugano tecnica tradizionale e scusate sono proprio un ignorante con i termini, con appunto la tridimensionalità delle immagini, è veramente qualcosa di bellissimo e un merito va anche poi alla collaborazione con l'autrice dei testi Chiara Lossani che ha dato voce non solo alla narrazione della vita di Frida Kahlo ma proprio ha dato voce alla casa azul, le ha dato, ce la fa emergere come una testimone viva, una quasi un'estensione dell'anima stessa di Frida, questa casa azul che accoglie nel suo mondo la piccola Frida appena nata come se fosse una sua ulteriore madre, questa figura materna che Frida Kahlo ha sempre a più volte rappresentato nei suoi quadri, un po' come sia la maternità che lei è stata negata purtroppo dalle sue condizioni fisiche, una maternità che è un suo sdoppiamento, una maternità rappresentata nel suo amare e accudire il suo compagno di vita Diego Rivera, ma anche la madre intesa come la madre natura rappresentata nel mondo della terra e del mondo degli animali eccetera, in questo caso anche la sua casa azul rappresenta quasi un'estensione della figura materna, è il ventre materno che racchiude Frida nel quale crescono, si generano le sue opere artistiche che poi vengono parturite e date al mondo intero, veramente è veramente un modo originale di raccontare la vita di una figura così straordinaria come è stata Frida Kahlo e non è un modo per niente scontato e veramente ragazzi anche questo ragazzi mi ha lasciato incantato, spero sempre si capisca dall'emozione che trasuda dalla mia voce, dalle mie parole quando mi ritrovo a parlare di questi volumi di Michelangelo Rossato e non penso di poter dire altro alla fine, finirei per farvi un riassunto della vita di Frida Kahlo ma non mi basterebbe un solo video per raccontarvi tutta la sua esperienza di vita, i suoi drammi, le sue tragedie, le sue opere che qui ci vengono raccontate, vengono racchiuse tutte quante qui, qui ritroviamo la Frida Kahlo artista, la Frida Kahlo donna e la Frida Kahlo dalle mille sfaccettature che è una scoperta continua, penso che chi è appassionato di Frida Kahlo può saperlo benissimo, può dirlo molto più facilmente di come mai potrei fare io nella mia ignoranza e niente ragazzi questo è tutto quello che avevo da dire, io spero di cuore che questa recensione vi sia piaciuta e spero soprattutto di avervi dato un ulteriore, di avervi conquistato ulteriormente nello scoprire se ancora non l'avete fatto, le opere di Michelangelo Rossato nella facciavia questa altra sua opera che vi consiglio di recuperare se ancora non l'avete fatto e niente io come tanti altri suoi ammiratori, tanti altri suoi lettori sono in attesa del 30 marzo per poter aspettare per l'uscita della sua prossima opera che sono sicuro sarà all'altezza di tutte quelle che l'hanno preceduta se non magari mi azzardo a dire qualche gradino in sovra più almeno per quel poco che ho potuto vedere delle anteprime che potete vedere anche su amazon o sui profili social di Michelangelo Rossato veramente con quel poco che ci ha mostrato, io già non vedo l'ora di avere la favola di amore psiche da lui disegnata tra le mie mani, non vedo l'ora di leggerlo e di ammirarlo, di vedere come è stata illustrata e come è stata raccontata, non vedo veramente l'ora. Bene ragazzi e dal vostro elusio è tutto, spero davvero come ho detto che questa recensione vi sia piaciuta, lasciatemi un like se così è stato, commentate, ditemi la vostra se avevate già recuperato quest'opera di Michelangelo Rossato oppure se è la prima volta che ne sentite parlare, cosa ne pensate eccetera eccetera, iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video, mettete mi piace alla mia pagina facebook, seguitemi anche su instagram sempre se volete e noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao!